Concludiamo questo percorso all'interno della Tuscia andando a toccare quello che poi è una delle zone, degli areali che hanno determinato il rilancio della regione Lazio nel panorama vitivinicolo nazionale ma anche internazionale in realtà. Andiamo nel comune di Gradoli, Grotta di Castro, San Lorenzo Nuovo e La Terra, meglio conosciute per la denominazione a cui hanno dato origine e vita nel 1972 ovvero quella dell'Aleatico di Gradoli. Quando parliamo di Aleatico facciamo riferimento a un vino dolce, passito o liquoroso, vediamo questo vitigno quindi l'Aleatico che è protagonista per almeno il 95% del blend, quasi sempre lo troviamo in purezza. Il restante 5% può essere di riferimento per quelli che poi sono i vitigni autorizzati nella provincia di Viterbo. Ad ogni modo questo è un territorio molto particolare perché siamo nella sponda nord del lago di Bolsena, quindi del lago vulcanico che abbiamo visto aver caratterizzato in un poco questo territorio. La sponda nord è quella più selvaggia, selvatica, in cui i boschi ancora occupano gran parte della superficie e quindi i vari produttori di vino devono strappare proprio i vigneti al bosco stesso. Qui la viticoltura si sviluppa tra i 400 e i 500 metri di altitudine, quindi siamo abbastanza in quota. Il terreno è marcatamente di origine vulcanica, anche se tende ad essere decisamente sciolto e a virare verso il sabbioso. Quello che però influenza più di tutto le caratteristiche di quest'area è proprio il lago di Bolsena. Perché? Intanto funge da specchio, quindi garantendo un'ottima illuminazione dei vigneti e tante ore di luce per una maturazione corretta e costante quindi dell'uva. Abbiamo una grande ventilazione, quindi evitiamo anche di avere quei fenomeni di umidità che poi potrebbero portare alla formazione di muffa all'interno del vigneto. Ma la caratteristica principale è che il lago di Bolsena funge da mitigatore proprio del clima. L'inverno qua non è mai così rigido, pur essendo rigido, e allo stesso tempo l'estate non diventa mai troppo torrida. Questo permette a un vitigno come l'aleatico quindi di avere una perfetta maturazione. Nelle sue versioni l'aleatico, quando parliamo di aleatico di Gradoli, quindi di questa DOC, della denominazione di origine controllata, lo possiamo trovare in versione passita, quindi con un appassimento successivo con una concentrazione zuccherina che parte da minimo 280 grammi litro, quindi stiamo parlando di una concentrazione zuccherina elevatissima. Abbiamo poi la versione licorosa, la versione licorosa riserva, dove si va invece ad aggiungere ovviamente acquavite. In questo caso qui, quando parliamo di riserva, è perché servono almeno due anni di affinamento all'interno di botte di legno. Abbiamo poi anche una versione che possiamo chiamare dolce, quindi verrebbe da dire quasi una versione normale, ma non fa riferimento al secco. Quindi questa potrebbe essere identificata come la zona dei vini fortificati e dolci del Lazio, e mi potreste anche dire che questa è stato poi chi ha guidato la rinascita di questo territorio e di questa regione. Non è assolutamente così, perché tra i nomi che hanno, diciamo in qualche modo, creduto e rilanciato la terra laziale, troviamo Andrea Occhipinti, che però di dolce ha veramente poco, perché è stato il primo nel 2008 proprio a rompere lo schema dell'Aleatico, tant'è che produce fuori denominazione perché lo ha portato in versione in secco, rappresentandolo al mercato stupendo tutti per quella che potrebbe sembrare oggi un'intuizione estremamente banale, ma che al tempo di banale non aveva praticamente nulla. Andrea Occhipinti intanto è un romano adottato dal territorio di Gradoli perché ha studiato all'Università di Viticoltura e Enologia di Viterbo. Ma come ci è arrivato? Facciamo un passo indietro. Andrea Occhipinti viene da una famiglia che lavora in un settore completamente differente, quello delle tessile. Stava studiando economia nel momento in cui un incontro estivo, lui dice addirittura un incontro in campeggio, con due studenti dell'Università di Viticoltura e Enologia di Viterbo gli ha aperto proprio la visione. Ho deciso quindi a quel tempo di cambiare completamente rotta e la sua tesi nel 2004 è stata sulla zonazione dell'Aleatico a Gradoli. Quindi già nel 2003, mentre era in tesi, inizia a cercare dei terreni per poter iniziare un'azienda a vitivinicola. Lo fa e lo fa andando quindi a comprare pochissima terra inizialmente, ma anche oggi gli ettari totali sono circa 6 ettari di proprietà per una produzione che supera di pochissimo le 15.000 bottiglie l'anno. Parliamo anche di uno degli iniziatori veri e propri del movimento dei vini naturali nel Lazio, ma è stato quello che ha rivalutato Gradoli più di tutti e che ha rivalutato attraverso Gradoli anche proprio la zona della Tuscia, che poi ha trainato verso un nuovo successo la regione Lazio per quanto riguarda l'aspetto vitivinicolo. Il suo modo di lavorare quindi è diventato un modo di lavorare semplice, con pochissima solforosa e non in tutti i casi. L'idea di andare a utilizzare l'Aleatico per produrre dei vini secchi in questa zona qui sembrava qualcosa di quasi folle. Non è che le espressioni comunque dei suoi vini sono delle espressioni uniche. Troviamo quindi nelle vigne di Andrea Montemaggiore, siamo intorno ai 450 metri di altitudine di media, lo spazio per andare a produrre, grazie anche alla grande selezione massale che Andrea ha portato avanti, con la consapevolezza e la conoscenza portata anche della sua tesi sulla zonazione proprio dell'Aleatico, lo spazio per produrre Alea Viva. Alea Viva, che Alea fa riferimento ovviamente al vitigno, è il primo Aleatico prodotto a Gradoli con consapevolezza in versione secca. È molto particolare sotto ogni punto di vista, perché intanto i sentori partono dai sentori che a volte potrebbero richiamare quasi più la frutta a polpa bianca piuttosto che la frutta a polpa rossa, come ci potremmo aspettare, molto fresco al naso. Abbiamo dei sentori che sono leggermente erbacei, richiamo alla rosa. Quando parliamo di frutta baccarossa stiamo parlando comunque di tutta frutta che porta freschezza. In bocca però non è la freschezza che comanda, ma è quella mineralità tipica di suoli caratterizzati proprio dall'apillo vulcanico. Quindi abbiamo questa salinità che fa salivare. È sempre però molto, diciamo, aggraziata la freschezza, l'acidità che ritroviamo al palato, ma soprattutto il tannino non è mai aggressivo. Infatti possiamo servire questo vino anche con qualche grado in meno. È un tannino sempre molto composto, è un tannino che sicuramente può far divertire, anche perché porta questo leggero grip. La sua innovazione non è finita perché poi ha fatto anche una versione di aleatico in bianco, ha fatto una versione di aleatico in rosa, e poi ha deciso di andare a sperimentare anche con l'altro vitigno autotono che si trova nei suoi vigneti, ovvero il grecchetto rosso con un blend 50-50, quindi di aleatico e grecchetto rosso, per andare a sperimentare con varie anfore. Per sua stessa ammissione ancora sta cercando e sta studiando quindi quello che è l'affinamento perfetto e anche il tipo di anfora perfetto. Qui andiamo a fare delle macerazioni sulle bucce di 30 giorni. Considerate che su Alea Viva il tempo di contatto sulle bucce è di circa 15 giorni, per non estrarre troppo, il risultato in questo momento è quello di avere delle versioni di aleatico molto differenti rispetto a quello che la tradizione ci ha abituato, ma con un lavoro che è estremamente tradizionale e rispettoso proprio della natura. I vini di Andrea Occhi Pinti hanno rappresentato a partire dal 2004, quando è iniziato a lavorare, con il culmine del 2008, quello che il Lazio può offrire a livello anche di innovazione, di natura e di gusto, tant'è che i suoi vini sui mercati americani sono conosciutissimi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!